I bifosfonati sono i farmaci più largamente utilizzati per la terapia dell'osteoporosi, sono farmaci cosiddetti antiriassorbitivi che si utilizzano un po' in tutto il mondo per questo tipo di indicazione. Noi però ne abbiamo sentito parlare in un contesto completamente diverso da quello dell'osteoporosi, qui a Praga in occasione del quarto convegno dell'ISIAT, l'International Symposium for Interticular Treatment, quindi in un ambito di terapia dell'artrosi sostanzialmente. Ecco ci facciamo raccontare come mai appunto questo possibile nuovo impiego dei bifosfonati da un vero esperto, dal dottor Umberto Massafra, reumatologo presso l'ospedale San Pietro Benefratelli di Roma. Senti dottor Massafra, come mai appunto i bifosfonati potrebbero trovare impiego nella terapia dell'artrosi? Qual è il razionale clinico da una parte e farmacologico dall'altra? Allora, la recente letteratura sottolinea che non esiste un'artrosi, ma esistono diversi subset di pazienti con caratteristiche differenti patofisiologiche. In una di queste sottoclassi, chiamata artrosi osteoporotica, abbiamo un eccessivo turnover dell'osso sottocondrale. In pratica l'osso, pure parlando di artrosi, si comporta esattamente come si comporta nelle forme di osteoporosi sistemica, tanto è vero che spesso l'osteoporosi sistemica e la sarcopenia, cioè la carenza anche di muscolo, sono contemporaneamente presenti. Ed è una forma, proprio patogeneticamente parlando, correlata con il deficit di estrogeni. Per cui, se si riesce a individuare questo tipo di subset di pazienti, il razionale per l'utilizzo di tutte le terapie attive sull'osso è chiaramente ovvio. Quella è qui al congresso, ha presentato una disamina dei dati presenti in letteratura riguardo all'impiego dei bifosfonati in questo particolare tipo di utilizzo. Cosa ci dicono gli studi già pubblicati? Le meta-analisi che ho riportato in questo convegno ancora non sono conclusive, quindi non danno dei dati certi, ma probabilmente questo riflette proprio il fatto che, fino ad oggi, i bifosfonati sono stati utilizzati sperimentalmente per il trattamento di tutte le forme di artrosi, senza individuare specifici subset, precisamente questo specifico subset di osteoporotica artrosi. Recentemente, negli ultimi due o tre anni, sono emersi dei lavori molto interessanti che effettivamente sembrano indicare come, individuando magari con tecniche di risonanza magnetica i pazienti affetti da artrosi con presenza delle cosiddette bone marrow lesion, che sarebbero il segno del coinvolgimento dell'osso sottocondrale all'artrosi, ecco, effettivamente l'utilizzo sistemico in quei pazienti dei bisosfonati per via endovenosa o per via intramuscolare, sembra effettivamente migliorare notevolmente sia l'outcome in termini di dolore che la progressione radiologica dell'artrosi.